La trasferta da Augusta poteva essere forse l'ultima spiaggia per chi sperava che la corsa del Papiro Fiumefreddo verso la promozione in B subisse una battuta d'arresto, una battuta in effetti c'è stata, ma si parla di squadra battuta, la palla a volo a Augusta. 1-0-3 al centro sportivo Brucoli che ci lascia un'Augusta in terza posizione fuori o quasi dalla corsa playoff a 39 punti con dietro il Bronte a meno due che cerca di rosicchiare e per l'appunto un Papiro che continua la marcia verso la vittoria del campionato e la promozione in B o meglio la partecipazione ai playoff. Vittoria che arriva con dei set abbastanza chiari 21-25, 20-25 e 19-25. Adesso per il Papiro di Tani Frinzi Russo ancora sei sfide di cui quattro in casa da non sbagliare e soprattutto senza sottovalutare gli avversari per non cadere in un suicidio sportivo e soprattutto per prepararsi ai playoff che saranno praticamente una competizione a parte a cui parteciperanno le prime due dei gironi A e B di Serie C. Il tutto come ciliegina sulla torta di un weekend che ha visto la promozione della seconda squadra del Papiro dalla prima divisione alla Serie D con tutte le gare vinte.